Coppa d'Africa 2024, nella seconda giornata del Gironedì, si sono sfidate alle tre l'Algeria con il Burkina Faso. Burkina Faso che era partito sicuramente più forte dell'Algeria, infatti è andato subito in vantaggio con Conatè. Poi la reazione nel secondo tempo con il pareggio algerino di Bondeljá, poi ancora una volta il Burkina che gioca una partita ordinata e precisa che va di nuovo in vantaggio con un calcio di vigore giustamente concesso a Contraorri, e nell'ultimo minuto di recupero dei sei minuti è ancora Bondeljá a trovare il gol del 2-2, quindi una partita molto pivotecnica con quattro gol, due gol per parte. Il Burkina adesso è a quattro punti, l'Algeria rimane viva, almeno per il momento, con due punti e quindi non rischia già l'eliminazione. E quindi tutto si decideva all'ultima partita del girone. Ricordo il risultato finale, Algeria-Burkina Faso, 2-2.